ha utilizzato un bancomat rubato ad una 47enne di lucca prelevando allo sportello somme di denaro e facendo acquisti in gioielleria da dove se ne era poi uscito con un anello e una collana la polizia è riuscita a dare un volto e un nome all'uomo che ha utilizzato la carta della donna per la squadra mobile si tratta di un 38enne residente in un campo rom della città che è stato arrestato con l'accusa di ricettazione e indebito utilizzo di carta di pagamento è stato grazie all'esame delle telecamere delle attività che gli agenti hanno individuato il sospettato finito in manette al termine di un blitz nella sua abitazione dove gli agenti hanno trovato gli indumenti utilizzati mentre prelevava il denaro con il bancomat rubato